Ho ritenuto opportuno mandare una lettera al sindaco Raggi perché provveda ad incentivare il lavoro dell'AMA in modo tale che di fronte alle scuole ci sia molta pulizia. Noi abbiamo dovuto constatare in questi giorni, ma anche nei precedenti, ma in questi giorni la cosa è aumentata a causa dei rifiuti natalizi, che di fronte alle scuole si sono accumulati montagne di rifiuti che impediscono un buon accesso alla scuola stessa. Si tratta di un fenomeno chiaramente negativo che va assolutamente risolto, anche perché non solo dal punto di vista igienico può procurare dei problemi piuttosto consistenti agli stessi bambini, ai ragazzi che entrano a scuola, ma significa anche dare un segnale negativo ai nostri studenti che cerchiamo appunto di abituare ad un'educazione ambientale sempre più precisa e sempre più salubre per tutta la popolazione.